Gli interessi su questo debito enorme di quest'anno sono più o meno 65-67 miliardi, che tanto per dirvi cos'è, è l'intero bilancio del Ministero dell'Istruzione, dagli asili all'Università. Allora, il signor Conte Bis avrebbe, secondo me, dovuto avere la responsabilità di dire agli italiani, cari italiani, qui soldi non ce n'è, e invece ha promesso tutto a quasi tutto. Perché questo volevo capire, cioè lei è arrivata all'altro giorno.